Così che volevo fare? Mi sta venendo un dubbio, ma mi sembra che la testa... non so ne che sia un tonnate normale E che era gioco? Missione testa No, la metto così? Secondo me siano rimpicciolite, mi sembra questa qua quella che avevo scelto, non mi sbaglio Allora, da chi andiamo adesso? No, non è questa la mappa è Y Allora Andiamo dalla vedova? Andiamo dalla vedova, anzi, sì, sì Ehm Possiamo andare tutti qua? Giù di qua? No, di qua siamo usciti, no no E qua mi sa Dai Oh Ah, ok, ma la da qua, ah ok Ma la da lì, strano Guarda che è più comodo Ehm E' sempre chiuso Salve maestro umano, scusate il turbo, ma Avete visto Martin di recente? Cioè, l'avevano fatto sparire Martin Non si sentiva bene e così ho lasciato L'ho lasciato dormire fino alla prima Quando sono tornato a vedere come stava era sparito L'ho visto giovedì mattina Stavo correndo attraverso il pascolo mentre mi dirigevo l'abbazia alla prima Ma, dicevo di essere ammalato Tanto ormai ci odia voi l'olini anche se Anche se ne sparliamo Cosa ci facevano e pascolo? Non ci va mai Non ci va, inizia sempre a starnutire In realtà non andavano a pascolo, era andato alla foresteria Sembrava che stesse scappando dall'abbazia Dai, mettiamolo nei guai Perché me lo chiedete? In passato gli è capitato spesso di compiere scelte sbagliate Come rubare? Sì, l'hanno fatto sparire Ci voleva un po' di dramma Tipo il corpo di Martin che galleggia la cascata Il servo del barone Rothwogal Crede che Martin possa aver rubato alcuni dei anelli del signore Non è che si è invertito Che abbia rubato il signore dei anelli L'amor di Dio Immagino che sia andato a rivenderle da qualche parte Oh Martin, come è potuto? Capito dove potrebbe essere andato Questo non credo proprio L'ultima volta che è scappato si è recato a Innsbruck Vabbè, Innsbruck Ma non saprei, non saprei Potrebbe essere ovunque Anche sotto terra E se venisse assalito sulla strada Non dire nulla Non la comportiamo Si arrangi Chiedo scusa, questo non è un problema vostro Grazie per aver parlato con me Provate a chiedermi altro? Non voglio abusare della vostra gentilezza Ma Se non è chiedere troppo Fatemi sapere se vedete Martin Per favore Sono così preoccupata per lui Vabbè, certo Kat Ok Grazie maestro Maler Statemi bene Oh, volevo chiederti una cosa Vuoi unirti a noi a tavola? No Devo andare Magari un'altra volta Sicuramente Statemi bene Prima o poi ci andremo Così magari c'è qualche retrosceno Con Martin e Brigitta qua Ah, Brigittissima Mi augurerei una buona giornata Andreas Ma Vediamo che sarebbe una bugia Puoi augurarcela a noi Poi che la tua faccia schifo Non ce ne frega niente Avete saputo Il buono Rod Walker È stato assassinato All'abazia Sempre qua che sono Sai che Sai che Sempre qua che mi risulto Sono perplesso Il fatto che Che ho già detto Che mi Boh Io Mi stupisco che non abbia Un po' più di iscritti Diciamo così Ma In realtà Il motivo Io lo so qual è L'ho già detto E l'ho rivisto Qualche giorno fa Sapete che Ho provato a cercare Su YouTube Lost Judgment Lost Judgment PS5 Gameplay Gameplay Ita Sai che io non esco E io ho messo su quanto 130 episodi Di Lost Judgment Ho comunque adesso 650 iscritti Piuttosto ha messo davanti Uno Un italiano Cioè io proprio Ho fatto passare E non c'ero Non lo so Nella prima Seconda pagina Non c'ero Ha messo davanti Un italiano Che ha 170 iscritti Una roba così O 115 O 175 Senza commentario Cioè No commentary Cioè Quello che tendo a dire io È che Secondo me Io non so Io ho guardato Qualche streamer italiano Ma Con la mia ironia Eccetera Secondo me Non ce ne sono Boh Non lo so Questo addirittura Era davanti a me Senza commentario Con un quinto Degli iscritti Un quarto Degli iscritti Ma che Come cavolo Sono fatti Quegli algoritmi Lì Mi non riesco a capire Se hai cercato Di acqua da zero E ci sono uscito Va bene È più facile Cioè Se tu mi cerchi Da google E vai su video Mi trovi Prima Mille volte prima Ma il motore interno Di youtube Non so Io ragione a seconda Della logica Assurda No Una delle logiche In teoria È quella Del penalizzare Per esempio Chi fa le serie lunghe Ok In realtà Io i giochi Io sto streamando Sia perché Se fossero arrivate Qualche soldino Mi sarebbe dispiaciuto Chiaramente Anche solo Per pagarmi i giochi No Ma sto streamando Anche perché Per me è stata Un'occasione Per giocare Giochi che io Continuo a accumulare Non gioco mai a niente Cioè io ho 4.000 giochi E non gioco mai a niente Ho avuto l'occasione Così Per cui per me È normale Che io cerchi Di finire i giochi Dopo che ho avuto I miei problemi Sappiamo Con l'alimentazione Eccetera Quindi di lucita Vabbè ok La cosa che Non doveva Esistere Ma è successo così Però E quindi Questo mi ha impedito Di finire tante serie In realtà Probabilmente La maggior parte Ma non perché io volessi Ok E non perché io non volessi finirli Ma perché appunto C'è stato un altro motivo Però non è più nemmeno Ok Questo vuole penalizzarmi Ma io non ho intenzione Di fare come certi altri Streamer Italiani Che non nomino Che sostanzialmente Sono tutte prove di gioco Cioè Cosa sono Un promoter di videogiochi Se mi paghi Mi dici Ok ti do 2000 euro al mese Mi promuovi i giochi Un conto Ma a parte quello Non mi piacerebbe comunque Cioè voglio dire Perché a quel punto lì Se tu fai solo prove di gioco No Grazie per l'iscrizione Non è se tu fai solo prove di gioco Vuol dire che tu non giochi mai Cioè nel senso Vuol dire che non ti interessano i giochi Ma se io inizio un gioco Poi voglio finirlo Cioè sennò A meno che non mi fa schifo Uno che ho dichiaratamente Non ho voluto finire No body No way world Non mi ricordo come si chiama esattamente Ma l'ho detto Non mi piaceva Cioè Ha preso buoni volti Ma nel giocarlo Per me c'erano troppe stronzate E non l'ho Cioè l'ho detto Dichiarato Ma sennò gli altri Bene o male Mi interessano tutti Li gioco perché mi interessano Quindi Eh sì Ma sai cos'è Allora i like non arrivano I I I minutaggio di visualizzazione Sono bassissimi Cioè la media è tipo Uno cinque minuti Non va così Cioè per me vedono Siamo sempre Uno dei motivi è che vedono Il tizio con i capelli grigi E se ne vanno Basta Quindi non sanno niente di me Non hanno visto niente di me Boh Vabbè Però dico Tra me e me e di mico Non credo che ce ne siano tanti Che portano A certe serie Come le porto io Secondo me Però Non commentare Lo judgment Cioè Matteo Lo sa benissimo Judgment E lo judgment Ne ho fatti piuttosto bene Anche perché Non dovendo tradurli Come sto facendo con Yakuza Avevo più risorse No Quindi secondo me Sono tutte e due Due buone serie Da guardare Secondo me Però Allora Avete saputo Il barone Rotwog È stata Una parentesi Lunghissima Scusate Il gt capelli Si lo facevo Ma non L'ho fatto Per un periodo E poi tra l'altro Come ho sempre detto io Mia sorella Ha un amico Che a 30 anni Era più grigio di me 30 anni 30 Di numero Quindi non era vecchio Stavo dicendo Sì me lo sono tinte ancora Per 6 mesi Ok Ma alla fine Sai cos'è A parte che Più diventi grigio Più Non riesci A diventare scuro Ma a parte quello Ci sono entro Tutte delle stronzate Quei cosi Capito Di mettermi sulla testa Cosa che poi Alla fine C'è un momento Delle cose che non fan bene Alla salute Vabbè Arangiati Sì sì Immagino che si scherzava Però Ti ho risposto seriamente Perché davvero Non ho fiducia In quelle cose Comunque Tanto cielo E da chi Sicuramente Non da uno Dei fratelli Perché Perché sicuramente E se lo diciamo Per me è stato Il tuo Martin Vediamo se c'è la risposta Uno dei fratelli più anziani Si sono trovato In possesso Di un coltello Ma non credo sia stato lui Ok Ancora non lo so Ma ho intenzione Di scoprirlo Proviamo Intortarla un po' Con Con la nostra dialettica Chi altro può essere stato Se non l'uomo Con il coltello Questa è veramente semplice Questa qua Tu sei platuno In che senso sei platuno Oh signore Martin non faresti mai una cosa Allora Martin non farebbe Mai una cosa simile Vediamo se la corregge Correggila Perché non la corregge Martin non faresti mai Non sono Marty Quindi L'ha visto fuggire Dall'abbazia giovedì mattina Subito dopo L'assassino E il barone Rotvoga Ah non sei Non sei pelato No Io sono pelato Scusa Adesso ho capito Quindi La tintura per capelli Non ti serve Pensate che Pensate che Marty possa avere Ucciso il barone Che devo chiedere a lei Scegliere questa No Non potete dire una cosa del genere Perché no Bastardello Non farebbe mai Del male A nessuno Non è possibile Non è possibile Perché non farebbe male Ma ha derubato delle persone Dovete ammettere Che la cosa è sospetta Ma ha derubato delle persone Stiamo facendo Ci stiamo aiutando nemici Di mezzo villaggio Praticamente Al massimo ti potrebbe Servire una tintura Per il foulard Per la bandana Così per cambiargli il colore Una volta la fai rossa Una volta la fai blu Due anelli E qualche fiorino Fiorino Vogliamo un'aspirazione Monete d'oro Usate come volute In tutto L'avranno già letto Mi sembra Il fiorino È generalmente considerato Equivalente Al fiorino fiorentino Ok Un altro fiorino Ma infatti Sì in Germania Si usava Due anelli Qualche fiorino Per esempio Rubati dalla stanza Il barone Prima del suo omicidio Gli abitanti della città Credono che sia un ladro Ma no Andiamo su Martelliamo qua Mio dio Io non posso credere Che sia stato così stupido Vedete C'è tra sei anche sposato Anzi E' avuto un figlio L'avete visto Prendere gli anelli Come lo sapete Lo vuole difendere Me l'ha detto Il servo del barone È davvero così importante Me l'ha detto il servo del barone Insistiamo E ha visto Martin Prendere gli anelli E i fiorini Sarebbe pronto a giurare Davanti al signore Da ve l'ho visto Mamma mia Questa qua Ha visto Martin A girarsi nei pressi Della foresteria Della abbazia Il giorno prima E in una conclusione Ragionevole da trarre Ho anche visto Martin Vicino alla foresteria Il giorno prima Si comportava in modo strano Meglio che non vi dica Nient'altro Perché tanto mi sembra inutile Quasi quasi Allora se fossimo Se fossimo nella realtà Scegliere questa La manderei a quel paese Perché tanto Non ci vuol sentire Però dai Insistiamo Questo verrà ricordato Ah beh Io ho detto la verità Che cosa vuoi da me Però non lo sa per certo E nemmeno voi Vabbè Fai l'offesa Che se ne frega Speriamo di trovarlo davvero Che galleggia Nello stagno Comincio a pensare Che a voi non stia A cuore la verità Ah beh Beh Allora Ok Ha una parte di ragione Però Anzi tra l'altro A noi che stiamo facendo i detecti Dice una cosa del genere Cuccio a pensare Che a voi non stia a cuore la verità Mi serve solamente Un capro ispiratorio E avete scelto Martin Io non l'ho accusato Ho detto Potrebbe Pensatela come volete Vedo che non riesco A farvi Cambiare Idea Una reazione tipica Di una donna Cioè vanno Quando in quarta Io non ho ancora parlato Però Sono già Pensatela come volete Io Non abbiamo fatto tempo A dire Scusa un attimo Ma io ho detto potrebbe Non ho detto È lui Non posso fare altro Che confidare In Dio E in mio marito Bel marito Che si è scelto Mi auguro Una buona giornata Andreas Molto bene Arrivederci Brigitta Ah ah Brigittissima Il nostro Franz Che vuole qualcosa Mahler Perché non viene in cena Da noi Quella ghigna Poi come minimo Brigitta ci sputa Nel piatto adesso Se non ci mette Anche qualche velino Magari un'altra volta Franz Franz E va bene Ok andiamo Dalla nostra No aspetta È di qua Andiamo da Ottiglia Casa di Ottiglia Che cosa vuoi? Non ce l'ho Scusa Scusate Non c'era L'opzione Di In realtà È la cena Da quello là Di prima Effettivamente Non mi ricordavo Questo particolare Allora Qui potremmo fare Anche I misteri Per lei Ma Mi sa Che poi Passa E non riusciamo A cenare Andiamo a cenare Adesso E i misteri Li facciamo domani Allora Non ci andiamo più Allora Parliamo con Franz Con Franz Perché non viene a cena A noi Volentieri Volentieri D'accordo Cioè Entusiasmo Vabbè Andiamo a cena Benedicci noi O signore O signore E questi tuoi doni Che siamo Per i cieli Dove è Ottilia Non c'entra niente Che stiamo Per i cieli Grazie La tua generosità Perché stanno Signore A me Vabbè Mi sa Che ti ha fregato Vediamo Tu sei un uomo Rispettoso Andreas Di Martini Soprattutto I tuoi genitori Ti hanno insegnato Un po' Di disciplina Ci hanno provato Due fratelli Maggiore Che l'hanno Fatto Al posto Loro Ok Vuole dire Che sono i fratelli Maggiori Che ci hanno insegnato La disciplina Non stavo cercando Di capire Che cosa volesse Intendere Di Devo essere Bello Per i tuoi genitori Avere così tanti figli Tutti di un pezzo Fossi io Così fortunato Ti sta facendo Vivere il family Cos'è Prosciutto O pancetta In ogni caso Dobbiamo fare Del nostro meglio Con ciò che Signore ci ha donato Giusto Cut Ti ha donato Martin Ehi Non era convinto Infatti Siamo fortunati D'avere un figlio Averne di più Sarebbe stata Una benedizione Ancora più grande Martin Non è una benedizione Però È il mio fallimento Non preoccuparti Non succederà Non succederà Non succederà cosa Che rimane incinta Un'altra volta Che cosa vuol dire Non preoccuparti Non succederà Buon dio Non dire nulla Vediamo Cosa risponde L'uomo che pianta Il seme La donna Si limita A farlo crescere Ok È stato Tradotto male In realtà Sono due Che si incontrano Non è che È solo il seme E basta Un ovulo Cioè nel senso Ti ho chiesto Qualcosa È simpaticissimo Se vuoi il mio parere Il segreto Per avere Un figlio Ben educato È il pugno di ferro Ah beh Ma chi T'è che Sono due Parere Tra parentesi Però Allora Vediamo Cos'è che c'è da mangiare Stufato di pesce Perché è in rosa Scusa Sembra Sembra Tortino di salmone Ma che lusso qua Cioè voglio dire Di santore Ho trovato il film Oppure il manga in inglese Il film Hanno fatto un film Eh Il manga in inglese Vabbè Tu non hai problema Con l'inglese Quindi Non c'è problema No Ammesso che la traduzione Sia fatta bene Perché sappiamo che Soprattutto in passato Le serie tv Un adattamento Del Cos'è con quelli Come si chiama In carne e ossa No No ma lascia per Cioè a meno che Cerca su MDB Se c'è un voto tipo alto Ma se no Lascia per Leggi in manga Leggi in manga Che merita il manga È uno dei migliori manga Oppure Tortino di salmone Oppure Tortino di salmone Ok va bene Hai stufato Hai stufato Oh Friends Che risparmia Il bastone Odia suo figlio Chi lo ama È pronto a correggerlo Lo dice la Bibbia Ma vabbè Solicità E qui non avevano ancora Non avevano ancora inventato La psicologia Cioè picchiare Dei figli Può funzionare con alcuni Ma con altri Proprio no Anzi Magari crei un serial kill Cioè Ma a parte questo Ma in generale L'uso Per capirci L'uso della forza Per insegnare Educazione O anche l'istruzione Eccetera L'unica cosa che crea È servi del sistema Appunto Praticamente è un modo Per plasmare le menti A ubbidire Sostanzialmente Ok La gente non ci pensa Ma è una puttanata C'è una puttanata Più galattica Che ci possa essere Tu devi crescere Dovesti crescere Menti aperte Eccetera Non Pecore Pecore Come abbiamo visto Negli ultimi tre anni Per esempio Senza entrare Nei dettagli Quindi Il metodo migliore In teoria È quello Del nord Europa In cui tutti i bambini Vengono coinvolti Nell'insegnamento Si mettono tipo Tavola rotonda Maestro insegna Ma poi Gli fa ripetere All'altro Usa un altro bambino Per insegnare Quello che lui sa Meglio Con gli altri Vuoi mettere Quello Quello è il top Aiuti a sviluppare Le socialità Aiuti a far capire Meglio le cose Invece noi Lissimamente è questo Noi seduti A lavagna Il tizio che scrive Magari va velocissimo Si capisce un cavolo O come io Che al superiore Ho La solita Topografia Che volevo portarlo A presti Perché scrive In corsivo Piccolo Alla lavagna E mormorava Tra se Non si capiva niente Volevo portarlo giù A presti Per chiedere A presti Da come mai Avevano assunto Quel tizio lì Perché sicuramente Era nepotismo A manetta Tu pensa Ragazzi di 16 anni Che voleva fare Non mi portavano giù A me la presti Volevo portare io Il professore La presti Vabbè Bibbia dice un sacco Di cose Dai Un altro Un altro nemico Dai facciamoci un altro nemico Dico qualcosa Dice qualcosa Sull'essere un bravo ospite Tanto c'era Ma lui Qua è una carogna Anche il bambino Si mette a piangere Sei cattivo Forse se Wolf Piangesse di meno Ascolta Perché non Prende bastonata Anche lui Tanto più o meno Puoi educarlo così Un po' di bastonata In testa A bambino Allora Martin non sentirebbe Costantemente Il bisogno di scappare Ah ok Vedi Martin scappa Perché il bambino Pianza Capisci Cioè Non è Lui un padre Di M Martin un padre Di M No no È sensato Bisogna Ascolta Prendi il bambino C'è lo stagno Non lo so Voglio dire Chiedo scusa Provo a tranquillizzarlo Padre e patrone Questo letteralmente Oltre che un gran stronzo Però Questo maledetto baccano Mi sta facendo Vire mal di testa Magari vai a letto E te ne vai Così tesoro Finalmente Qui dentro fa Allora Comunque con Ottiglia Dopo riguarda La mappa meglio Ma Qui dentro fa un freddo cane Cut Dopo mangiato Vai a prendere Un po' di legna Vai Capito Potresti andare a prendere No vai C'è bello Puoi parlare di educazione Vai a prendere Seleziono l'elemento Tortino salmone O tortino di salmone Che prendiamo Questo è un pane Ma non possiamo Noi siamo limitati qua Come Muro invisibile Allora Mi stuzzica di più Questo Che sembrava più grosso Dell'altro Sì certo Solo che Adesso dice Mi fa male Tutte le gambe Eccetera Possono Potresti andare tu No Che c'è È già la scusa pronta Varo qua Mi fa male il pancino Hai bisogno di sdraerti un po' Il pancino Cos'è Mica una bambina È tua moglie Mi preoccupo Che torni a Ottilia Aspetta 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 Perché ti preoccupo Che torni a Ottilia Io voglio Che venga Ottilia La vedo a Campion Vi ha infastidito Sentiamo Sentiamo questo La sorpresa Raccoglie Legna da ardere Sulla nostra terra Gli ho chiesto Di andarsene Perché 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 è vostra La legna Perché io ci pago Le tasse Su quella Linea da ardere E lei Mi ha urlato contro Piuttosto violentemente Vabbè Una vecchia pazza Ci sta Sta attraversando Un momento Difficile Presto Che strafalcioni Le porteranno Via La casa Dai Facciamo Facciamo Beh Non è un problema Mia Cazzo Se voleva Tenersi la casa Doveva fare Qualche figlio In più Un uomo Un uomo Di gran cuore Questo Di nuovo Una donna Non può semplicemente Scegliere Di avere un figlio Dai Ormai Siamo sulla strada Di farci Nemico Anche lui Kat lo ha fatto Perché quella Vecchiazza No Diglielo Kat Vabbè Adesso non può avere figli Non so se lo sa È un po' vecchia Però Ma se mangiamo qualcosa Il bambino piange Non è che ha fame Chiedo scusa Chiedo scusa Vieni qui Orsetto Va tutto bene Sei un bravo bambino Vero Se assomiglia al padre Sono sicuro Che se avesse potuto Scegliere Ottilia avrebbe avuto Un figlio Di cosa stavamo parlando Siete bravissimi A calmarlo Brigitta No Stiamo su Ottilia Andrea Lasciamo perdere Diglielo Pregavo ogni giorno Per avere un figlio E alla fine Ho avuto Martin La preghiera È stata fondamentale Sicuramente Esatto Proprio come dicevo Sia tu che Eddie Eddie è quella Sulano Che ha avuto anche là Un figlio Se la moglie Di mio fratello È riuscita A farsi Ascoltare Dal Signore Quella vecchia strega Avrebbe potuto Fare lo stesso Spero che Martin Stia bene Di solito Quest'ora È già tornato Da un pezzo Sono due giovani Che manca Incapace Lavativo Buono a nullo Appena torno Lo riempio di botte Chissà perché Poi è un delinquente No John Non permetterebbe Mai al suo figlio Di fare una cosa Del genere E passarla liscia Mio fratello Sa come crescerà Un ragazzo Ubidente Cos'è peggio di te Aspetta un attimo John Brugger È il No Non è Il padre Di quello grosso No Che mi sembrava Un po' tontolotto No perché stavo pensando Non è che quello là È tontolotto Perché sono preso Botta in testa Sin da piccolo Ed è rimasto Un po' scemo No però È John Non è lo stesso Forse Che testo Una E parlando Di finirsi malati Abbiamo del lavoro Da fare Basta con le chiacchiere Vabbè Comunque Comunque Almeno Salmone Salmone Da noi Costa un botto Bene Ora E tra l'altro È uno dei cibi Che dovrei mangiare di più Perché è grasso E poi Vabbè Salmone è buonissimo Comunque è dolce Si scioglie in bocca Bene Ora devo proprio andare Grazie per avermi accolto Al tavolo È stato Illuminante Grazie a Dio Che me ne vado Vabbè Dai Stiamo gentili Ci fa piacere Che tu sia venuto Con pietà Mi comune a dormire un po' Possiamo invece sfruttare Questo momento In qualche modo Se andiamo a casa di Ottilia Possiamo dormire con Ottilia Deve fare un figlio Ah Chiusa a chiave Allora Allora Un'ottima cosa Vedi che loro Lì lo danno Come Franz Bauer La vede a Camp Campier Campier Però evidentemente Oh è strano Che potremmo mettere Franz Bauer E sotto la vedova Cioè non è che Dovano per forza Mettere insieme Cioè voglio dire Franz e la vedova Sì però Ecco vedi Esatto Fattoria di Johann Bauer Quindi Stiamo parlando Di Quello là Giorgel Grosso Ma cavolo si chiama Vedi Le botte in testa Che risultato è andato Facciamo Facciamo solo una cosa Veloce Vediamo se vediamo Di nuovo il fantasma Andiamo a dormire Perché non so Che cosa La biblioteca C'eravamo già andati Quindi non Serve a nulla No Nessun fantasma Fortunato l'abbiamo seguito Quindi anche quello Non serve a niente Dobbiamo dormire E' di qua No Questo È casa Di Zimmerman Perché parola Di vasca Dato che c'è Delle finestrine Possiamo anche andare A casa Di Bauer Prima o poi Per esempio Dato che c'è